Uno show allegro, pieno di musica, ci sono 13 musicisti sul palco, ci sono canzoni di tutti i tipi direi perché ci sono quelle di oggi, quelle di ieri, quelle dell'altro ieri. Ci tengo al fatto che la gente si diverta, che possa cantare con me e se si divertono loro, anche io mi diverto moltissimo. E ogni giorno mi sveglio troppo a dire questo è un giorno nuovo, lo scuolerò partendo da ore e da qui, vai così, vai così, vai così, vai così. Stai andando forte, apri tutte le porte. Ma io ho inciso circa 600 canzoni, ho dovuto selezionare, cercare di mettere qualcosa di attuale, qualcosa di meno attuale, poi ci sono delle canzoni che non possono mancare. Non so, posso dire uno su mille, oppure c'era un ragazzo, oppure fatti mandare dalla mamma, se non la faccio è un disastro. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due, ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro. Con la mano, nella mano, ma se già va con te, tu dirgli a percoso, che sono geloso, che se lo rivedo, mi spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma, a prendere da te. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Stai, scendi, bello, dai!